Oh, almeno l'abbiamo sconfitto, c'è sempre uno. Stavo scherzando, Gian! Gianluca! Prego, speriamo che è lui. Saggessa l'administrazione! Chi cazzo d'ora! Gianlu! 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 Speriamo che sia tornato normale adesso, Gian. Non se ne vuoi più, eh? E' prima, dopo di Carlo Verdone. Gian? Gianluca? Gianluca del tuo pazzo? Si sta svegliando. Che faccia e fai? Gian? Bel bendo? Ma? Benvenuto! Me sembra riconoscere questa voce, eh? Tu tu sei? Eeeh, sei un nuovo opere! Io sono un opere! Ma ancora? Non ho avuto la reparizione, reparizione! Ci risiamo, basta, torna normale! Ma che stai a dire? Non stiamo più facendo challenge, esperimenti! Ma che challenge? Ma a me che interessa è un challenge! Tu sei il mio opere, devi finire stasera, reparizio! Sei impazzito! Ma altrimenti ti ha minaccio! Devi venire a Maurizio! Ma guarda che Maurizio Costanzio non è mica così esagerato, eh! Non mi invitare! Che cosa sai fa? A me solo lo puoi mandare a Parioli, perché tra meno d'ora inizia la puntata! Sono le... È mezzanotte! Tra un'ora l'una inizia la smissione, quindi dopo a me... Ma però sei sicuro che è mezzanotte? C'è star solo a mezzanotte? Ma non vedi che c'è la luna? Dai, man mano! Allora, il padrone è questo! Guarda che bello! Meglio che così! Qua c'è stato per fare l'intervista! Io mi siedo qua, tutto e siedi là! Oppile è presentatore! Poi lì c'è il bagno, se te scappa... C'è la gatta! Ma che c'è mai la gattappaglioli mia! Che c'è mai la gattappaglioli mia! Che c'è mai la gattappagliola mia! Comunque te quello di! E poi c'è il bagno, c'è per caso scappa la pipina, gatta, lì c'è il bagno e ci va! Eh, va bene! C'ho anche il Devo, bragarvi, siamo tutti pronti! Ehi! Stiamo con felicità! Ehi! Allora, dobbiamo prepararci però! Dobbiamo provare... Allora, tu senti, ascolta! Che stai facendo? Ma sei bravissimo a suonare il panoporte! Peglio del Dragardi potrei succedere! È la sigla del Maurizio col... Lo so che è la sigla! Ma Devo la fa molto peggio! O del Dragardi, qualche resto, tutti uguali! Tu sei con una maraviglia! Eh, ma stai gridando troppo, eh! Io sto gridando l'Europo! Chi è che faccio? Celentano? Ho invitato Celentano? No, ho invitato! Questa è una puntata speciale dove invito Hoppiti, non famosi, non Bip, Hoppiti e chiedo le cose della... Potresti invitare Gian del Duopazzo? È chiesto Gian! È un bambino di 12 anni! Ma... La testa di cavolo, eh! Ma prima di 18 anni non si può entrare con il Maurizio! No, perché io picchio se non rispondo alla domanda! Ah, va bene! Va bene! Va bene! Allora... Stai a iniziare! Celentino! 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 Come disse la tv in mezzo al mare! Siamo in onda! Celentino! 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 Chi è? Hai messo il kiss a fare la city? Guardi! E staffa! Benvenuti! In una volta da l'Eperizio! Stai a sciogli! Sono qua con un hoppite! Sono uno! Buonasera! Buonasera! Però non mi hai detto di sono! Chi è che devo fare? Come mi chiami? Beh... Il tuo nome? O con un dia! Tu mettete qua! Io questo lo riprendo da qua! Ah! Ah! Aspettate che attacchiamo al tavolo eh! Ok! Perché? Questa puntata del Marizio Costanzociolo la riprendiamo col cellulare eh! È la prima volta che... Mettete qua! Aspettate! 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 Va bene! Aspettate! Buonasera! Mi chiamo Marizio Costanzo! No! Non fare limitazioni! Tu è il nostro primo hoppite! Ci chiama? Ma... Mi chiamo... No! Ma no! Ma... 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 che vuoi? Dai! Come ti chiami? Ma che devo fare? Un attore? Un cartazzo? Un pubblicitario? Ti ho detto che questa è la puntata dove non ci sono VIP! Ah vabbè! È una... Devi essere te stesso! È una te stesso! Va bene! Allora... Come ti chiami? Daniele! Eh... Daniele... Che lavoro fai? Il pubblicitario! Il pubblicitario! Fa schifo il tuo lavoro! Eh... Eh... Comunque... Ma è be... L'hai sposato? Eh... No! Ha dei figli? No! Com'è la tua piazzata? Non ce l'ho! Sono singolo! Ma... Vabbè! Allora... Ehm... Ehm... Come dire... Ehm... Che... Sono pubblicitario! Per dire... Vuole acquistare tre fustine al posto di quattro? O quattro al posto di cinque? O cinque al posto di sei? La risposta è sempre no! Perché a me ne basta uno! Non faccio nomi! Perché lava per tutti! Andiamo? Ragazzi? Andiamo? Ragazzi? Vieni da qua! Buttatelo fuori! Buttatelo fuori! Non è sposata con una figlia! Non posso fargli nessuna domanda fuori! Quindi io vediamo domani con un nuovo episodio! Ciao! Ma Costanzio? Ma che razza di trasmissione è? Un solo ospite! E vabbè! Io lo faccio sempre con 70-80 ospiti! Stavolta hanno fatto soltanto mamma! Ma Maurizio Costanzio sui show! Ma il minimo c'ha 7-8 ospiti! Mh! Soltanto ho fatto questa eccezione! Però sei stato... Non hai fatto un bel episodio! L'ho dovuto butta fuori! Mh! Mh! Guarda un po' questo! Tu mi hai detto di maestro! E' attore! Nei cantante! Ho fatto uno comune! Un normale! Che fa di lavoro pubblicitario! Sì! Ho capito! Ma dovevi essere sposato con dei figli! Come ne facevo qualche domanda! Ma non potevo essere sposato con dei figli! Perché il pubblicitario va in giro per l'Italia! Fa le pubblicità! Mette i manifesti! Nei giornali! Sulle riviste! E poi... E caramelle senza carta! Alla carta senza caramelle! Ma che storia! Sì! Comunque un forte dolore! Un forte dolore! Un forte dolore! Un forte dolore! A fare l'episodio! Non so perché! Mi starai invecchiando! C'hai 80 e passa anni Marizio! Ma in verità io non c'ho 130! Sono nato nel 1900... 1890! Eh sì! Ai tempi dei garibaldi! Certo! Io ho 130 anni! Ho preso la piazza filosofale per non invecchiare! Capito? Ah! Allora comunque! Te lo dico! Che non hai fatto un bel episodio! Ma Marizio! Ma tu sei il papà del rivolto? No! Eh! Anche la piazza filosofale! No! Maurizio! Ma... 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 Ma...